Io mi ricordo quando stavo a Napoli, ero un ragazzino, Sergio Bruni veniva a Milano da mio padre e mangiavamo gli spaghetti insieme. Quindi il fatto di sapervi così vicini, sono sicuro che anche loro saranno felici di tutto questo. Quindi vi ringrazio e tenetevi questo bel posto stretto perché è un posto meraviglioso. Un bacio.